Il Comitato di Quartiere della Gammarana chiede chiarezza sull'installazione di un micro cogeneratore a cippato, installato all'interno del campo di atletica, un impianto che produce con lo scarto del legno energia elettrica e calore secondo il principio della cogenerazione, una situazione su cui l'associazione di quartiere chiede controlli da parte degli enti competenti sull'apparato al fine di tranquillizzare gli animi dei residenti. Non piace perché i cittadini chiedono semplicemente se i controlli previsti per Norve, il tipo di impianto di micro cogenerazione che utilizza biomasse, scarti del legno per intenderci, i controlli sugli inquinanti, i controlli sui rumori, i controlli del materiale proveniente per la generazione di energie piuttosto che calore, sia all'interno delle norme di riferimento. Si sta chiedendo semplicemente questo. Allora il vero l'abbiamo fatto con i gestori dell'impianto, oramai da tempo stiamo dialogando per affinché ci rendessero disponibili questi documenti o quando meno, più che rende disponibile a noi, rendessero pubblico in maniera di natura pubblicistica dei dati affinché chiunque potesse prendere visione e capire il tipo di controllo che viene effettuato e le attività di manutenzione che viene fatte sull'impianto. Questo ad oggi non c'è stato dato e siamo qui per denunciare questa situazione. Vogliamo far presente che secondo il nostro punto di vista l'impianto necessita di altre autorizzazioni e faremo richiesta la settimana prossima agli organi competenti del Comune affinché ci rendono i dotti sulle autorizzazioni richieste per l'impianto specifico. Secondo lei quale potrebbe essere il pericolo? Allora che qui produce ossidi di carbonio, ossidi di azote e quant'altro è un dato di fatto. Questo non significa che può essere pericoloso. Vogliamo capire se stanno all'interno dei parametri previsti per la norma. I rumori che gli abitanti di intorno lamentano adesso tempo stanno all'interno dei valori. Quindi sarebbe opportuno che gli organi competenti nello specifico l'ARTA facessero i dovuti controlli affinché verifichassi che i parametri sanno all'interno delle norme di riferimento. A terra il Movimento 5 Stelle ha presentato ufficialmente il candidato che correrà la carica di primo cittadino alle prossime elezioni comunali in programma il 10 giugno. Si chiama Cristiano Rocchetti, assicuratore di 52 anni, vicino al Movimento del 2011 e nel 2014 è stato nominato delegato di lista per le elezioni comunali. Una bella responsabilità soprattutto perché su Teramo la situazione è abbastanza disastrata e quindi il compito che ci toccherà se gli cittadini terramani scioglieranno noi sarà veramente impegnativo ma di questo non ho paura. La prima cosa da fare sono tante le cose, qui non è stato fatto nulla da tantissimo tempo quindi pensiamo di fare più cose su più fronti, risanare un attimino i conti, guardare un attimo ma sulla scia del compito che sta portando avanti il nostro commissario pensiamo che su quella scia potremo lavorare e portare da subito qualche cosa di veramente nuovo che cambi le sorti e la qualità della vita dei cittadini terramani. Una persona competente, preparata, onesta e trasparente che sarà in grado sicuramente di fare una squadra di persone competenti per far rinascere la nostra città perché noi siamo stati abituati a litigi, a raccomandazioni, a procedure poco trasparenti tutto questo dovrà scomparire ma l'hanno detto chiaramente i cittadini di Teramo il 4 marzo in quanto hanno eletto a primo partito il Movimento 5 Stelle con il 37% hanno chiaramente detto che questa gente che ha governato fino ad oggi non la vogliono più vedere ma la vogliono appunto mandare a casa. Questa è la nostra proposta, una proposta nuova, facce nuove che sarà in grado veramente di non fare gli interessi di pochi ma di mettere al centro il cittadino e quindi noi abbiamo un programma in 10 punti per migliorare la qualità della vita dei terramani un programma semplice che partirà dalle cose concrete, dalle cose basilari quindi a partire dalle manutenzioni, dal miglioramento dei servizi dal taglio degli sprechi e di fatto mettere le risorse che riusciremo a recuperare all'interno dei servizi essenziali. Questo è il nostro modello per far rinascere la città un assessore alle manutenzioni dedicato e soprattutto un progetto a lungo termine sarà quello di creare finalmente un ufficio comunale che si occupi direttamente dei bandi europei in quanto è assurdo che un capologo di provincia non abbia degli addetti esperti proprio all'euro progettazione e ai bandi comunitari in quanto sono una delle pochissime fonti di finanziamento che rimangono di fatto ai comuni. La ricostruzione post-sisma nel territorio terramano continua a vivere una situazione di stallo visto che ad oggi sono solamente sette le pratiche riguardanti le abitazioni di esito B le prime che dovrebbero essere completate per legge espletate dall'ufficio speciale per la ricostruzione una situazione su cui l'associazione Robin Hood e l'ex assessore al Comune di Teramo Franco Fracassa tornano a denunciare anche la mancanza di trasparenza da parte del sito dell'USR che non viene aggiornato per permettere di seguire in tempo reale l'andamento delle migliaia di pratiche così come avviene nelle altre regioni. Le notizie sono sempre più allarmanti, adesso scopriamo che c'è una delibera di ottobre quindi dopo otto mesi della costituzione dell'ufficio nella quale il responsabile chiedeva dei computer, dei monitor che fossero idonei per il lavoro che devono svolgere quindi otto mesi per scoprire che questi computer non vanno bene è un tempo veramente lungo nel frattempo nelle altre regioni le pratiche andavano avanti visto che il tema di trasparenza amministrativa ancora oggi non siamo in grado di capire quante pratiche sono in corso di lavorazione e non ci sono altri dati noi faremo una nostra autotrasparenza e quindi invitiamo ai cittadini che hanno presentato Praticarmu di darci dati che li pubblicheremo noi Ci siamo ripromessi appunto di dare questi dati ogni mese sia io che Pasquale, qui Robin Hood e questa volta noi abbiamo preso anche i dati del Lazio dove loro hanno già 20 cantieri aperti ma soprattutto stanno lavorando per la ricostruzione di una scuola professionale 7 milioni e mezzo e stanno andando avanti anche con questa progettazione hanno svolto 157 pratiche di delocalizzazione contro le nostre 20 pratiche quindi anche su questo vi è una differenzazione notevole ma quello che rimane il dato importante invece nelle Marche dove sono arrivati alle 400 cantieri aperti ma soprattutto stanno trattando 2.120 pratiche contemporaneamente come avete sentito prima noi non siamo in grado di sapere quante pratiche attualmente si stanno gestendo a seguito del drammatico incidente avvenuto nel novembre del 2016 che portò alla morte di un ciclista amatoriale finito con la sua bicicletta contro un camion lungo la strada provinciale 1B ad Ancarano in un tratto dove metà della carreggiata era occupata da una frana il PM Luca Sciarretta a conclusione dell'indagine ha indagato tre dipendenti della provincia per omicidio colposo questo perché la Cassazione ha sancito più volte che gli enti gestori delle strade sono responsabili della sicurezza di chi le corre una situazione che riapre nuovamente la questione della pericolosità delle strade per la mancanza di manutenzione causata dal fatto che oramai le amministrazioni locali sono sempre più al verde Beh sì, in realtà questo è uno dei problemi da affrontare su questi territori in cui le pacchettate delle strade mettono anche a rischio i dirigenti dipendenti dalla provincia di Teramo la cattiva mototenzione porta anche a un pericolo sulla strada provinciale e a una responsabilità anche della provincia di Teramo si è capito comunque qual è il limite della responsabilità perché c'è proprio l'accortezza da parte degli utenti sono convinte su questo Ancarano c'è mancata un'accortezza da parte degli utenti della strada perché comunque da parte degli utenti c'è anche consapevolezza dello stato di degrado a volte le strade provinciali quindi c'è la giusta attenzione nel percorrere anche le strade provinciali Comunque noi stiamo rispondendo su queste problematiche grazie anche ai fondi master plan attivati con Regione Abruzzo è partito prima la prima gara che è scala 18 aprile sulla zona di Castelli e Primo Lotto e sono in cantieri altri 13 lotti quindi una risposta che abbiamo dato insieme alla Regione su queste viabilità della provincia di Teramo quindi comunque l'attenzione da parte degli enti preposti c'è su tutto il territorio Altre province hanno deciso di chiuderle poi alla fine alcune strade la provincia di Teramo? Beh no, noi cerchiamo abbiamo fatto di tutto abbiamo lottato per non chiudere le strade provinciali perché si crea un grande disagio alla circolazione degli utenti delle strade noi diciamo agli utenti e abbiamo messo spesso limitazioni stradali quindi accorgimento delle strade provinciali dicendo agli utenti di fare accortezza nel percorrere delle strade provinciali e di fare attenzione a dei piccoli insidi e pericoli che si possono intravedere noi abbiamo fatto una battaglia anche l'anno scorso con le strade somburgenze perché abbiamo sempre cercato di non chiudere il strade provinciale abbiamo il caso Santa Lucia a Montorio che è in cui la strade è chiusa perché c'è la caduta massi e lì abbiamo una protesta forte della cittadinanza che comunque sappiamo saremo consapevoli delle difficoltà la stradenza per raggiungere i centri abitati quindi dobbiamo cercare di evitare di chiudere il strade provinciale A Teramo sembrerebbe essere tutto pronto per la gara sui parcheggi a pagamento in centro il commissario del comune Pizzi ha approvato la relazione tecnica che fisse i criteri generali della procedura per il riaffidamento del servizio l'atto rappresenta un passo in avanti decisivo verso la definizione di una vicenda che si trascina da quasi sei anni con reiterate e proroghe concesse alla Tercop impegnata nella gestione delle strisce blu ben oltre la scadenza del proprio contratto dunque nei prossimi giorni gli uffici prepareranno il bando da mettere in pubblicazione una situazione che ovviamente tiene sulle spine la cooperativa sociale Tercop Dopo 25 anni di gare vinte praticamente basta perdere una e si ritrovano tutti per strada dalle piazze alla strada praticamente siamo un po' preoccupati e girano tante voci perché dagli incontri che c'erano stati si escludeva una gara al massimo ribasso le ultime voci perché parliamo di voci magari che non saranno nemmeno attendibili però come circolano praticamente che si pare che si chiederebbero percentuali sugli introiti un conto magari chiede una percentuale fissa un conto invece gareggiare proprio sulle percentuali che equivarrebbe a una gara al massimo rialzo ribasso e quindi al massacro occupazionale tanto per dire quindi noi ci auguriamo che siano voci infondate che magari il comune voglia tener conto oltre che del legittimo guadagno finanziario anche del guadagno sociale che sarebbe anche l'occupazione su cui diciamo la politica dovrebbe anche occuparsi una situazione delicata su cui i sindacati però ad oggi non si sono ancora incontrati beh su questo onestamente stiamo cercando anche noi i sindacati e speriamo che abbiano qualcosa da dire da fare visto che sono anni e anni che ci si rapporta con l'amministrazione e magari sarebbe il colmo che nel momento diciamo topico i sindacati non riescono a confrontarsi con l'ente vediamo ad oggi non riusciamo a sapere nulla né dal comune né dal sindacato speriamo nelle prossimissime ore diciamo nel futuro per fare un quadro completo quanti sono ad oggi i dipendenti che potrebbero perdere il posto di lavoro allora teoricamente li potrebbero perdere tutti perché le clausole di assorbimento del personale diciamo sono relativamente rassicurano poco o nulla nel senso se arrivano i parcometri il gestore ha bisogno soltanto di quattro unità lavorative e quindi sui 28 esistenti per ben che vada se ne salverebbero quattro per esempio quindi è tutto un po' relativo è chiaro che noi valuteremo in base al bando perché se non sappiamo i numeri praticamente è difficile pure valutare la scelta quindi sarebbe giustamente sarebbe curioso sentire se un'amministrazione comunale ha interesse soltanto dal petto della monetina della moneta oppure se vale qualcosa anche la vita di persone che hanno lavorato per circa 25 anni con questa amministrazione e se appunto le loro vite abbiano pure un valore sociale ed economico per le istituzioni nonostante negli ultimi anni si sia parlato molto di riqualificazione e valorizzazione del fiume Vumano la situazione del più grande corso d'acqua della provincia di Teramo ancora spaventosa oltre ai noti problemi legati ai fenomeni erosivi che hanno determinato veri e propri canyon in alcuni tratti dell'alvio e dei ricorrenti interventi di taglio al raso di tutta la vegetazione spondale con conseguente riduzione della capacità autodepurativa del fiume il WWF di Teramo è tornato a richiamare l'attenzione sul gran numero di discariche abusive presenti lungo il corso d'acqua un tempo l'uomo era ancora più scelerato di oggi e i comuni erano soliti depositare i rifiuti e fare delle discariche vicino i fiumi lungo gli argini dei fiumi con un semplice meccanismo copertoni sotto rifiuti pressati sopra ricoperti da un po' di terra ovviamente i fiumi sono mutevoli quindi mutando nel corso queste discariche nel tempo sono state rose ma il lavoro del WWF e dei volontari nella scorsa settimana è stato molto importante perché abbiamo risalito i corsi del Vomano il corso del Vomano e abbiamo censito oltre una cinquantina di discariche chiamiamole così abusive cioè piccoli cumuli di rifiuti oddio piccoli rilevanti dove abbiamo trovato di tutto rifiuti edili videoslot presumibilmente rubate anche perché non comprendiamo come possano delle videoslot essere lungo un corso del fiume tanti rifiuti edili tanti rifiuti di lavorazioni tantissima immondizia tutte le foto perché siamo riusciti grazie all'aiuto volontario di un tecnico che ringraziamo e tanti volontari una mappa interattiva con una geolocalizzazione precisa la mappa è disponibile sul blog del WWF Termo La Gramigna si può consultare sono censite tutte le micro macro discariche compresa una discarica censita lungo il fiume del Vomano a Roseto all'incirca dietro la zona industriale che è una discarica di quelle che ho descritto prima degli anni scorsi degli anni 70 degli anni 80 il Vomano ha cambiato leggermente il suo corso e questa discarica da oltre un anno nonostante segnalazioni continua a sversare per erosione rifiuti nel nostro mare ovviamente voi invitate anche i cittadini a denunciare se dovessero trovare delle piccole discariche stiamo elaborando con il WWF una mappa interattiva la mappa che troverete sul blog La Gramigna è interattiva è un open source quindi stiamo studiando un modo affinché i cittadini possano aiutarci con delle segnalazioni scattando una semplice foto con la geolocalizzazione a presto presto riusciremo a dare indicazioni per dare il contributo come volontari Dopo una lunga battaglia portata avanti dall'associazione Unica Beach finalmente quest'estate anche a Giulianova ci sarà una spiaggia per il migliore amico dell'uomo una spiaggia libera individuata a sud del porto del comune costiero attrezzata per l'ingresso di chi porta il proprio cane con sé in spiaggia L'identificazione è stata discussa in maggioranza l'altra sera ed approvata diciamo all'unanimità perché si sono espressi sia il PD che l'articolo 1 per realizzarla e hanno accettato hanno accolto la mia proposta di spostarla da dove era stata identificata l'anno scorso tra il Dino e il Costa Verde che erano solo 27 metri a portarla a sud del Molo Sud per 50 metri di fronte mare quindi a spiaggia molto grande Una battaglia che è stata vinta come una battaglia di civiltà e che riguarda la regione Abruzzo che ha legiferato nel 2014 con una legge regionale che impone a tutti i comuni almeno un tratto di spiaggia libera dedicata al libero accesso dei cani al mare Come bisogna comportarsi al mare con il proprio cane? C'è un regolamento regionale noi a Giuliano abbiamo anche il regolamento comunale che però rispecchia le stesse regole il cane deve stare al guinzaglio deve essere vaccinato regolarmente vaccinato il proprietario deve portare al seguito la museruola ovviamente non deve stare al muso del cane non è obbligatorio e le bustine per le feci per poter tenere insomma sono le norme regole per la libera conduzione degli animali nei luoghi pubblici insomma e deve essere regolarmente vaccinato non possono entrare i cani le cani in calore e nemmeno i cuccioli inferiori a due mesi non possono essere portati non in tutte le spiagge libere identificate per il libero accesso dei cani viene concesso anche il bagno in mare però in genere quando viene messo questo divieto il comune identifica più tratti di spiaggia e tra questi tratti almeno uno il cane può entrare in acqua e nuotare in acqua libero perché sulla spiaggia deve stare al guinzaglio però in acqua può stare libero si infittisce sempre di più a Teramo il numero dei papabili candidati alla carica di primo cittadino per le prossime elezioni amministrative in programma per il 10 di giugno una situazione che però senza ombra di dubbio verrà sfoltita con il passare dei giorni per cercare di trovare una quadra all'attuale situazione nel centro-destra per andare compatti al voto è sceso in campo anche l'ex consigliere di opposizione Gianluca Pomante attuale coordinatore regionale di Abruzzo Civico la mia candidatura è subordinata ad un consenso di coalizione perché se il mio nome dovesse mettere tutti d'accordo allora valuterò ovviamente la possibilità di scendere in campo di tornare in campo visto che ci sono stato fino al 4 dicembre se non dovessero trovare la quadra sul mio nome è ovvio insomma che l'interesse è relativo ma sicuramente Abruzzo Civico a quel punto correrà da solo perché i nomi attuali pur rappresentando splendide persone della società civile rappresentano anche esponenti di partito quei partiti contro i quali noi ci siamo battuti durante l'ultima consigliatura quindi non è possibile neanche da un punto di vista ideologico per noi seguire la Lega seguire il centro-destra seguire futuro in dopo averli combattuti in consiglio è possibile invece accettare una coalizione a guida civica quindi con un sindaco che sia espressione nostra o di un'altra realtà civica che non faceva parte della giunta Brucchio che non faceva parte del centro-destra teramano del modello Teramo perché in questo modo ci sarebbe un forte segnale di discontinuità con il passato e soprattutto potremmo parlare di programmi per il rilancio della città diversamente un discorso di coalizione non ci interessa noi siamo sempre stati indipendenti da questo punto di vista e quindi preferiamo andare da soli Un rilancio della città che dovrebbe partire da? Ma intanto attraverso opere pubbliche che possano migliorare le condizioni della città attrarre flussi di denaro dall'esterno e movimentare soprattutto l'economia abbiamo bisogno anche di un forte impatto sociale perché il degrado in questo momento è soprattutto sociale c'è una forte dispersione dei giovani che vanno via da Teramo per ovvie ragioni c'è una forte problematica che riguarda gli anziani e i disabili che a Teramo hanno veramente difficoltà ormai a muoversi e soprattutto c'è un forte disorientamento da parte dei cittadini che non sanno più a che santo votarsi per risolvere i problemi quotidiani Il 10 giugno è oramai le porte quando secondo lei si avrà il quadro completo? Sicuramente entro il 10 maggio perché bisognerà presentare le liste quindi lì avremo il quadro completo dei candidati e dei soggetti che si impegneranno per il rilancio della città a me piacerebbe cominciare a vedere parlare di programmi perché in questo momento il grande assente è il programma politico stanno tutti parlando dei candidati ma in realtà il cittadino è disorientato anche perché nessuno dice come intende risollevare le sorti di Teramo si è svolta a Teramo presso l'auditorium dell'istituto tecnico Alessandrini il convegno sulla violenza di genere incontri promossi a livello regionale dal quotidiano il centro in collaborazione con Conad patrocinato dal ministero dell'istruzione della procura della Repubblica di Teramo l'obiettivo è quello di attivare un percorso formativo e di sensibilizzazione nelle scuole superiori d'Abruzzo sul tema della violenza di genere dobbiamo costruire insieme una cultura contro la violenza dobbiamo costruire insieme un modo di vita in cui alla violenza sostituiamo il dialogo la parola la condivisione non solo capire ma dobbiamo costruire dei modelli di società diversi se questi sono i frutti di questa società dove gli individui si autodistruggono e distruggono la propria metà e si uccidono se questo è il modello di società che abbiamo costruito dobbiamo cambiarlo e dobbiamo costruire degli spazi di dialogo di una cultura che possa consentire una tutela della vittima dei viato perché questa è una società che non ha pietà per i più deboli il centro è organizzatore di questi incontri per questo il corpo relazionale ringrazia la proprietà del giornale anche nella persona del presidente il dottor Alberto Leonardis per avere deciso di iniziare questo tipo di percorso che ci porta praticamente a trovarci nelle scuole ad incontrare i ragazzi di diverse scuole praticamente della regione abbiamo cominciato con Vasto con l'Istituto Palizzi e oggi ci troviamo qui praticamente all'Alessandrini di Teramo nei prossimi giorni andremo a Chieti poi sarà la volta anche di Sulmono stiamo programmando anche altri incontri comunque sul territorio e dobbiamo dire che c'è molta rispondenza sia da parte delle forze dell'ordine delle procure che abbiamo coinvolto nel progetto e soprattutto delle scuole a cominciare dai presidi quindi dai dirigenti degli studi scolastici proprio oggi ricorre il primo anniversario del femminicidio di Ortona dove furono uccise due donne due amiche da parte del marito di una delle due ed è un tema di stringente attualità sul quale è opportuno aprire gli occhi e come giornale vogliamo cercare di cogliere la sensibilità maggiore da parte anche dei ragazzi affinché possano aprire gli occhi su questo argomento e quindi diciamo così schierarsi anche da questo punto di vista come noi stiamo facendo adesso in questo preciso istante è un argomento di grande attualità purtroppo proprio ieri è stato affrontato dal consiglio superiore della magistratura in un'apposita sessione il problema della violenza sulle donne il problema della violenza in generale è un problema che colpisce tutti e soprattutto i dati sono allarmanti perché sui casi di violenza la maggior parte si tratta di violenza sulle donne noi come scuola facciamo attività di prevenzione da sempre su queste tematiche collaborando con l'associazione nazionale magistrati per questo evento ringrazio in particolare la procura di Teramo con del centro che sensibili a queste tematiche hanno pensato di fare questo evento nel nostro istituto a noi serve far capire ai giovani la necessità di parlare di affrontare le problematiche e la prossimità delle istituzioni l'importanza di fare rete intorno ai ragazzi alle persone che hanno problemi e temono di denunciare tra virgolette e quindi chiaramente queste cose partono dai banchi di scuola c'è un'emergenza educativa la necessità di educare i ragazzi alle relazioni di tipo positivo e far capire quali sono i rapporti che devono avere con i loro coetanei anche con i rapporti d'amore le relazioni positive come devono essere gestite non per caso sta nascendo anche in questa regione un centro addirittura dedicato agli uomini la nostra è una scuola maschile i comportamenti positivi sulle differenze di genere rispetto per l'altro sesso deve iniziare proprio dai banchi di scuola e sono gli uomini che devono avere soprattutto rispetto per le donne così come le donne degli uomini questa mattina mentre leggevo i giornali ho visto proprio c'era un argomento sul Corriere appunto che parlava della riflessione pedagogica che deve essere nell'educazione deve partire dalle famiglie ma deve soprattutto interessare tutti i docenti delle scuole pubbliche e tutti i dirigenti scolastici e quindi è un argomento di grande attualità e noi dobbiamo fare sempre di più per noi di Conrad negli ultimi anni siamo andati molto molto avanti al di là delle offerte del supermercato abbiamo tirato fuori degli slogan importanti persone oltre le cose nessun supermercato un'isola cioè tutto un percorso che sta a significare che un supermercato i nostri soci i nostri imprenditori non vivono a sé stanti ma vivono principalmente in una comunità quindi l'importante voglio dire che la crescita della comunità sia in qualche modo voglio dire aiutata anche da Conrad perché è la comunità stessa che poi aiuta Conrad su quella differenza di genere è una battaglia che portiamo avanti da diversi anni quest'anno è stato il quattro anno che collaboriamo con l'associazione Dire l'associazione in rete delle donne contro la violenza siamo arrivati a oltre 400 mila euro di contributi questo perché riteniamo che sia importante cercare di superare quella che è una piaga sociale cioè la violenza è l'ultima leva degli incapaci lo abbiamo scritto a caratteri forti nei nostri manifesti perché riteniamo che sia così e quindi è giusto e coerente che Conrad sia in queste situazioni Quanto è importante farlo capire soprattutto alle nuove generazioni? Questo è un problema che possiamo superare soltanto con un atteggiamento culturale diverso quindi lavorare sulla cultura dei giovani è la cosa più importante che possiamo fare ed è anche la migliore perché soltanto con un cambiamento culturale si possono superare questi vecchi modi di pensare che ci sono